In questo webinar saranno presentati tre progetti che vanno dall'utilizzo di sensoristica IoT per la creazione di dashboard e cruscottistica finalizzata alla pianificazione da parte del decisore pubblico di interventi sul territorio in particolare in tema di distesso telegeologico all'iniziativa che permettono una centralizzazione dell'accesso del cittadino ai servizi del comune attraverso l'utilizzo di dispositivi delle più varie tipologie da device a telefoni a strumenti informatici di vario tipo e poi c'è la presentazione di un progetto che in qualche modo è diventato una buona prassi nazionale perché il progetto di Cagliari è un progetto che tramite il supporto del TIP per la trasformazione digitale è diventato un po' il modello messo a disposizione di tutte le pubbliche amministrazioni italiane per quanto riguarda la fornitura di servizi web alla cittadinanza iscriviti al canale